si stai in auto buongiorno casuale scusi l'album di incontrati guarda perchè mi è arrivato proprio due giorni fa ok questo e ho questo e questo e guarda qua c'è così c'è messo qui qua le gomme se le vuole controllare però non ce l'ho c'è messo per andare in mare comunque allora qualcos'altro vuole tutto questo lo metto qua così cosa vuole i libri di me guarda il primo e il secondo guarda il primo aspetta che punto secondo ecco il primo è questo è questo e questo è molto bello e si chiama Levanta meadele di lui è stupino ok vuoi che leggo qua sotto ok leggo cosa c'è scritto così quindi questo lo vuole ok guarda guarda qualche altra cosa che mi confluti ho il libro di holy card quelle con l'app cioè vabbè non so come si chiamano non so come si chiamano ma non mi ricordo come si chiamano perché è quel giorno da voi quanto ah libro secondo ecco guarda qua ah è la particolarità è la particolarità che se quando tipo è molto morbido come vede ok adesso invece tocca tanto è molto morbido ok vuole che leggo qua sotto qua cosa c'è scritto qua ok ok quindi questo questo è uguale ok ok allora posso guida il carrello dopo gli dico i prezzi ah sentiamo mi sono dimenticata una cosa ma lei lo vuole comprare con il segnalibro sì perché questo costa tipo 5 centesimi mi ricordo niente voglio comprare con il segnalibro ok quindi lo compro adesso vedo quanto costa 50 centesimi costa infatti andrì però ho già persino ripetendo però per niente allora mi vuole chiedere altro le carte le carte quelle che ti ho parlato certo io ce ne ho tanti guarda guarda io le ho disegno i gruppi adesso vi faccio vedere queste sono quelle che si ok ecco è che si ecco queste sono queste qua c'è scritto e qua invece c'è scritto e qua invece c'è scritto e senti il fumore di farlo lì così quindi queste le ore quindi le metto sul cannello quindi poi ci stanno ecco queste sono ecco queste sono in due infatti con l'unico ci sono tutte uguale ecco guarda qui c'è scritto il gorilla della bellissima quindi era un santuario no, queste non queste non è proprio tutto però queste le vuole ok si mette qui questo è il gorilla poi abbiamo queste scintillate che sono strumenti per me guarda scintillano molto le vuole queste le faccio vedere le vuole le vuole il gorilla ok poi abbiamo le carote degli animali qua ci stanno qua c'è un cammino qua c'è un altro qua c'è un altro qua c'è un altro qua c'è un altro poi ho tutte tutte queste che sono dell'app che si può scaricare perché sono poi abbiamo questo che è il gorilla quindi quindi questa è lo stesso e poi queste sono tutte infatti come vedi queste e un altro sono sono queste sono della come vedi qua c'è scritto app qua è molto bello perché basta che tu ho fatto camera sull'app su questa canzone tipo la canzone su quest'app ti fa stampa sull'app oppure è molto bello vuole qualcos'altro ah vuole qualcosa per suo video ok cosa le piace a suo video il calcio guarda guarda signora a me è arrivato proprio questo libro qua questo libro è molto bello e il titolo è Ronaldo contro papà storia di caccia raccontata davanti alla play la playstation dai giochi dei maschi di prima io faccio solo le ticolazioni di molestà allora non vuole questo libro vuole cost che da 9 euro queste carte perché questi sono divisi in pacchetti quindi questi saranno tipo di pacchetti quindi questi 2 euro quindi siamo a 10 euro questo 50 centesimi 50 centesimi questo quanto costa? 10 euro quindi siamo a 21 euro quindi 50 centesimi questo 1 euro siamo a 31 euro e 50 centesimi e poi invece l'album costa ben 3 euro quindi tutto dentro la carie 34 euro e 50 centesimi a la verde ok grazie ecco 4 ok che e il mio figlio ronald questo è un piccolo bellissimo infatti io lo voglio proprio grazie ok grazie ecco il mio resto ciao ciao buona serata buona serata